San Cristoforo è un suggestivo complesso costituito da due chiesette a fiancate. Sorge sul percorso che conduceva Milano dalla Lomellina, in un punto di passaggio obbligato nella rete dei vari corsi d'acqua. La prima chiesa, che corrisponde approssidativamente all'attuale annavata sinistra, venne costruita nel 1192 e fu ampliata e rimaneggiata nel 300. La chiesa di destra, comunemente detta cappella ducale, è del XV secolo, fu eretta sotto il patrocinio di Giangaleazzo Visconti, adempiendo al vonto popolare per l'improvvisa cessazione della peste del 1399. Il campanile con cuspide a cono cestile e monofore è l'unico di questa foggia che si è conservato a Milano. L'interno del complesso, dal 1625, si presenta nell'attuale tecolazione di due lavate. Degni di nota all'interno sono i vari affreschi, tra cui quelli dell'arcone trionfale, che è stato oggetto di importanti interventi di restauro tra il 2016 e il 2017. Il Cristo benedicente, della fine del XII secolo, che si può ammirare sul fronte sinistro dell'arco. La Madonna in trono con bambino, attorniata dai Santi, tardo quattrocentesca. La crocifissione è la Madonna in trono affiancata dai due Santi nella cappella ducale. E' il quadro della Madonna con bambino che polarizza l'attenzione sempre nella cappella ducale. Perchè Ducale Perchè Ducale Perchè Ducale Perchè Ducale Grazie a tutti.